Ciao Marco, sappiamo che ci tenevi molto a iniziare con un tuo messaggio per la città di Verona colpita appunto ieri da un violento nubiofragio. Sì, volevo salutare e mandare un grosso abbraccio a tutta la città di Verona e dirvi che anche se siamo qui siamo vicini e vi pensiamo. Mi raccomando, cerchiamo di rialzarci il prima possibile, ma sono sicuro che lo farete senza problemi. Un abbraccio a tutti. In questa fase del ritiro, così inizio stagione, cosa lavora in particolare il portiere, il tuo ruolo in uno specifico? Noi in questi primi due giorni abbiamo iniziato a fare dei lavori di tecnica e anche un po' a livello aerobico, però ovviamente sulle nostre distanze, ovvero dentro l'area di rigore. Poi so che nel giro di qualche giorno Massimo Taldi ci metterà sotto e ci farà fare molta fatica. Quali sono le tue prime impressioni sulla Val Gardena? Sappiamo che sei già stato qui con un'altra squadra, la temperatura sembra perfetta in questa stagione? Sì, veramente perfetta. Ieri e oggi, stamattina soprattutto benissimo. Io sono già stato qui, l'hotel è bello, il campo è molto bello, è tutto perfetto per fare un ritiro fatto nel migliore dei modi. La stagione scorsa è stata veramente splendida, ma è già tempo, come dicevi prima, di pensare a quella nuova. Quanto è stato importante aver comunque mantenuto un'ossatura della squadra, anche per trasferire il giusto spirito e la giusta mentalità, a quelli che saranno i nuovi arrivi? Più che importante penso che sia fondamentale. Noi, quanto fatto l'anno scorso, tutto quello che è arrivato l'anno scorso è arrivato grazie a grandissima umiltà e grandissimo lavoro fatto ogni giorno. Chi arriva qui quest'anno deve capire da subito come si sta nella sferona di Juric. Grazie a tutti.